in the city cosa succede in città l'appuntamento quotidiano su idea radio politica cultura spettacolo sport tutto quanto fa talk radio un programma di Corrado Orfini talk in the city dal lunedì al sabato alle undici su idea radio cosa succede cosa succede in città c'è qualche cosa il blu nella mia stanza era silenzio e mobilità cambiava la mia voglia con il ricordo di un'altra età l'età è un labirinto è il labirinto dentro me apro le tende e vendo a una forza che fa di me busta forte al cuore il desiderio della mia follia e il giro tondo non muore come un'ombra che va via busta forte al cuore l'espressione dell'anima è un respiro che vuole fare a botte con chi e che va ascoltando busta forte di esatto Marco D'Ambrosio lo abbiamo anche in diretta Marco buongiorno buongiorno a tutti e grazie di questa bellissima sorpresa Marco è appunto un amico più che un grande artista io lo ritengo un grande artista soprattutto perché fa le cose con amore con grande passione è un cantautore e è un bassista da anni e anni buongiorno Marco mi presento Corrado Corrado Orfini è un'opera prima lassù sognare un mondo diverso dove la faccia ha più un senso dove la vita ha più un senso dove quegli occhi tristi di un bambino dove si possa camminare insieme prendendosi per mano dove si possa respirare l'odore del mare brillano le stelle ciao sono Serena volevo farti complimenti alle tue canzoni perché sono veramente belle e poi ti volevo fare un saluto particolare perché io sono tua diciamo quasi conterranea si dice così perché io sono origine Arnaresi dell'Arnara quasi vicino a Sora Marco grazie grazie veramente di cuore a te a Roberto a tutto lo stesso di Dea Radio ciao Marco ciao a tutti ciao 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 ciao